Beatrice Luzzi, tutti costruiti a casa. Cosa ha scoperto sui concorrenti? Nel mondo dei reality show, le dinamiche tra i concorrenti spesso catturano l'attenzione del pubblico. Uno dei programmi più seguiti in Italia è Il Grande Fratello, che mette alla prova la convivenza e le relazioni tra i partecipanti. Tra i concorrenti che hanno suscitato interesse negli ultimi anni c'è Beatrice Luzzi, una giovane influencer e modella. Beatrice Luzzi è una figura nota nel mondo dei social media. Con oltre un milione di follower su Instagram, ha costruito una solida base di fan grazie alle sue foto e ai suoi video. La sua presenza online l'ha resa famosa tra i giovani e ha attirato l'attenzione dei produttori televisivi. Nel 2021 Beatrice Luzzi è entrata nella casa del Grande Fratello. La sua partecipazione ha suscitato curiosità e interesse, soprattutto perché aveva già una notevole visibilità online. Ma cosa ha detto Beatrice riguardo ai suoi compagni di avventura? Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha espresso alcune opinioni interessanti. In particolare, ha parlato delle dinamiche tra i concorrenti e della loro autenticità. Ha dichiarato di aver visto video di alcuni dei suoi compagni di avventura prima di entrare nella casa e di non essersi mai fidata completamente di loro. Queste affermazioni hanno sollevato domande tra il pubblico. Cosa significa esattamente quando Beatrice parla di costruiti a casa? E chi è Greta, la persona di cui ha visto i video? Greta è un'altra concorrente del Grande Fratello. Secondo Beatrice, i video di Greta hanno influenzato la sua percezione di lei. Tuttavia, non è chiaro quali siano stati i contenuti di questi video e come abbiano influenzato la sua opinione. Beatrice ha anche parlato delle dinamiche all'interno della casa. Ha sottolineato la difficoltà di fidarsi completamente dei compagni di avventura, soprattutto quando si sa che alcune persone potrebbero essere costruite o non autentiche. In conclusione, Beatrice Luzzi ha portato la sua esperienza online nella casa del Grande Fratello. Le sue dichiarazioni riguardo ai compagni di avventura e la sua sfiducia nei confronti di alcuni di loro hanno suscitato interesse e curiosità tra il pubblico. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le dinamiche all'interno della casa e come Beatrice affronterà le sfide del reality show.